Vuol dire che se io sul mio documento mi chiamo Francesco Rossi, sono battezzata o meno, insomma, comunque riconosciuta come tale e dico di percepirmi con un altro nome perché mi riconosco con un altro sesso, la scuola mi aiuta e mi chiamerà con l'altro nome e di questo parliamo, aspetti. Perché bisogna fare una riflessione più ampia su queste cose? Ma quale riflessione? Ma aspetti, posso finire? Ma non sai le cose. Vuole fare un contraddittorio o no? Ma c'è tanta ignoranza, certo che c'è tanta ignoranza. Allora, facciamo terminare e poi compito. Un concetto, guardi, le chiedo un concetto e poi le lascio tutto il tempo che vuole. All'interno, perché io non sono d'accordo sul fatto che dentro la scuola... Allora, noi parliamo di ragazzi minorenni, sappiamo che quando parliamo di minorenni bisogna stare molto attenti. Perché? Perché siamo in una fase, in una fascia di età, di grande vulnerabilità, soprattutto quella dell'adolescenza. Molto spesso vengono fatte delle scelte irreversibili con dei percorsi medici dove abbiamo visto che ci sono state molte persone che si sono pentite e irreversibili.